La scuola De Amicis di Giuliano Valta è sicura, lo stabilisce il professor Claudio Modena, ordinario di tecnica delle costruzioni della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, a cui il sindaco Francesco Mastromauro aveva affidato la superperizia dopo che due consulenti della procura di Teramo nello scorso mese di gennaio avevano rimesso una perizia stabilendo che la De Amicis era pericolosa in caso di evento tellurico. Il professor Modena nella serata di ieri ha consegnato al primo cittadino la superperizia basata su una serie di sopralluoghi, su verifiche di carico e carotaggi. L'ordinario della Facoltà di Ingegneria di Padova ha eseguito gli accertamenti facendo proprio la perizia dei due consulenti della procura, giungendo poi alle conclusioni che il sindaco ha illustrato in mattinata alle dirigenti scolastiche, al comitato dei genitori della scuola De Amicis e al direttore dei lavori di ristrutturazione dello storico edificio scolastico, l'ingegner Riccardo Malatesta. Una relazione che si basa su una doppia verifica, sia sulle norme antisismiche del 2008, sia su quelle in vigore dal 2018. Si può stimare, lui dice, un valore minimo dell'indice di sicurezza dell'ordine allo 0,7%, cioè lui ha rifatto tutto e dice che quell'edificio ha un indice di sicurezza pari a 0,7%. Poi ha fatto ancora di più. Io faccio quella verifica anche alla luce delle nuove norme tecniche in vigore dal 2018, che sono più rigide. L'ha fatto e il parametro sulla scorta di quella del 2018 è 0,62%. Dunque gli interventi eseguiti in questi anni per adeguare la De Amicis l'hanno resa una scuola sicura e lo ribadisce più volte lo stesso superperito. Si tratta in entrambi i casi di un valore dell'indice di sicurezza che non corrisponde ad inadeguatezze gravi tali in particolare da comportare degli interventi. E dimostra, dice Modena, come l'edificio, aggiungo io, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti della procura e risulta, dice lui, idoneo all'utilizzo scolastico perché possiede un livello di sicurezza comunque superiore all'indice minimo 0,6%. Ci sono però due aspetti che il professor Modena prende in considerazione riguardano l'antica chiesa di Sant'Antonio e la palestra, due strutture che confinano con la De Amicis che se adeguate, ovvero se vi fossero degli interventi di messa in sicurezza, innalzerebbe ulteriormente l'indice antisismico della scuola che migliorerebbe anche con dei lavori che riguarderebbero i solai della stessa De Amicis. È possibile aumentare ulteriormente la sicurezza sismica dell'edificio, quindi portarlo da 0,7 o da 0,62 ancora più ad un livello più elevato, in seguito all'esecuzione di controlli sulle possibili interazioni fra la scuola e gli edifici ad essi addossati alle due estremità che, come lui dice, non sono stati considerati nel progetto di Martegiani e successivamente ad indagini più approfondite sulle caratteristiche costruttive dei solai con minimi interventi. Per quanto riguarda la Chiesa di Sant'Antonio, l'Ufficio Tecnico del Comune invierà una lettera alla Curia legando la relazione del professor Modena affinché vengano ora eseguiti i necessari accertamenti.